il terzo parlamento per il terzo parlamento oggi rincontriamo il professor franco cardini ovviamente buonasera professore come sta bene grazie buongiorno bene salve beh il tema di oggi professore è proprio un tema che c'è molto richiesto lo dico francamente e quello che vorremmo fare oggi con lei una sorta di simulazione facciamo finta di ritrovarci nel 2040 e raccontare quello che sta accadendo oggi nel mondo soprattutto in questo scontro tra in questo mondo diciamo sotto profilo non solo economico ma anche sociale politico religioso tra questi due blocchi l'occidente e l'oriente ovviamente pensiamo anche quello che è il famoso world economic forum di davos dove l'occidente racconta un po il mondo che verrà e pensiamo anche a quello che è accaduto a san pietroburgo insomma questo forum organizzato dal brick dove dice no diciamo beh queste sono parole di putti dice sì gli stati uniti dopo la guerra fredda si sono sentiti praticamente in diritto di imporre praticamente una lidia al mondo ma le cose oggi sono cambiate sono cambiate siamo noi che vorremmo imporre praticamente una una linea lei è secondo secondo il mio punto di vista il il diciamo il il più importante diciamo storico nel panorama italiano per quanto riguarda bene me ne guardo bene ho fatto la premessa ho fatto ovviamente una premessa personale praticamente ora se dovessimo quindi raccontare quello che sta accadendo ecco vuole sentire veramente il suo punto di vista e forse possa di cosa cosa lasceremmo prego professor per rispondere correttamente bisognerebbe appunto essere in quel punto di vista lei parla del 2040 io non sono silvio berlusconi e siccome oggi ho già 82 anni e mezza non prevedo di vedere l'alba del 2040 ma ne dispiace mite mi interesserebbe mi curiosirebbe ma non non credo di essere che sarò così longevo anche se centenari esistono esistono persone hanno passato di gran lunga cento anni ma la mia mole in generale non predispone a questo tipo di longevità quindi ci ho premesso e noi nel 2040 molto probabilmente se saremo sopravvissuti non di come individui di come specie se nessuno in questo momento o da qui ad allora non fa qualche errore irreparabile se non accadono nel mondo nell'universo novità tali da interrompere il corso della vita nel nostro pianeta noi ci troveremo a dover considerare un tempo francamente un po diverso da come lo indica il presidente putin in realtà ci sono state molte svolte e svolte fondamentali sarebbe lungo indicarle tutte ma diciamo che con le due guerre con le due guerre mondiali si è conclusa una fase importante quella del tentativo da parte di alcune potenze e anche di alcune classe sociali di rimodellare il mondo secondo certi presupposti che lato senso potremmo definire ideologici da una parte un presupposto fondato sulle libertà individuali almeno in teoria più più ampie possibili dall'altro un mondo fondato sul tentativo di creare una giustizia intesa fondamentalmente come giustizia egalitaria come ripartizione equa ripartizione dei beni è evidente siamo davanti a ideologie non siamo davanti a nessun concetto che sia obiettivamente concreto e quindi scientificamente analizzabile la libertà libera liberistica è un concetto di libertà non è la libertà to cure la giustizia socialista è un concetto di giustizia non è il concetto to cure si sono messi nel mezzo alcuni tentativi di mediazione di sintesi o di alternativa ad entrambi i vari tentativi di creare terze forze terze opposizioni credo che il più più importante famoso di tutto questo sia la la nebulosa fascista che viene molto spesso considerata apoditticamente più da un punto di vista demonologico che da un punto di vista storico il male assoluto eccetera che ha comportato anche il tentativo di creare a differenza di un mondo fondato sulle classi sociali o sulle nazioni un mondo fondato sulle razze e sull'egemonia di alcune razze su altre lasciamo perdere che il concetto di razza sia un meno scientifico sappiamo che non lo è e questo periodo è stato superato da una lunga lungo pugno di ferro un lungo gioco al tiro della corda se vogliamo tra un occidente liberal liberistico da un lato e un oriente socialista dall'altro diciamo oriente occidente prendendo evidentemente a modello il nostro mondo così come lo vediamo e noi lo vediamo facendo centro secondo parametri antichi che risalvono alla bibbia o a platone facendo centro centro sul nostro mediterraneo sul nostro mediterraneo quindi l'occidente sta in europa in quello che c'è ovest dell'europa e l'oriente sta dall'altra parte questi due emisferi verticali del mondo sono stati presi come sinonimi di due sistemi politici diversi alternativi opposti attraverso una lunga elaborazione complessa con il risveglio di un terzo di un quarto mondo che si è scollato in parte le spalle dal vecchio sistema coloniale che lo obbligava ad essere funzionale al mondo liberale a quello socialista a seconda dei casi attraverso una serie di eventi eventi anche impensabili inconcepibili fino a quando si sono costituiti pensiamo soltanto per esempio al movimento sionista il movimento sionista che nell'ottocento è un movimento di pionieri ebrei senza terra in cerca che si sentono popolo ma che non hanno una terra e quindi un popolo senza terra e secondo i parametri ottocenteschi è un popolo che non può sussistere dal sionismo è nato tutta una serie di elementi che poi hanno portato alla Shoah che è stata molto a lungo e lo è forse ancora una delle poche categorie ferme categorie interpretative che costituiscono un perno della nostra società dopodiché il braccio di ferro tra l'oriente socialista e l'occidente liberista è stato vinto in apparenza per un certo numero di anni dall'occidente crollo dell'unione sovietica si è detto crollo del comunismo si è minimizzato e si è semplicizzato il fatto che paesi comunisti hanno continuato a sussistere fra cui anche se non vogliamo prendere in considerazione cuba eccetera e certi vietnam soprattutto il gigante cinese che ha costruito un comunismo diverso un comunismo coincidenze con il capitalismo di stato è un comunismo che in parte ha ripreso nella suo iter intellettuale e politico alcune categorie di un marxismo molto di un marx leninismo molto metabolizzato marx lenin maoismo metabolizzato ma ha ripescato anche e questo dal dall'universo cinese nel quale era nato ha ripescato la filosofia e il pensiero confuciano e quindi ha stabilito una realtà rispetto alla quale molti osservatori non hanno esitato a parlare di un altro occidente perché in realtà la cina comunista è senza dubbio un paese orientale e le sue radici confuciane rivendicate dopo la morte del presidente mao sono senza dubbio un fatto che potremmo definire orientale ma la società cinese nasce dall'esperienza profonda socialista nasce da un'idea di progresso un'idea di convivenza che è senza dubbio occidentale e allora dovremmo parlare non più di un occidente ma di molti occidenti di una pluralità di occidenti e lo si è già fatto lo si è già fatto a partire anche da grandi pensatori e gli anni fa dagli anni 30 40 50 carle schmidt carle jasper che hanno parlato di questa complessità del mondo attuale c'è stato un momento breve momento in cui è sembrato che il crollo dell'unione sovietica coincidesse con l'impero universale definitivo del liberal liberismo di quello che lutva ha chiamato il turbo capitalismo e in fondo quindi il sistema di davos se vogliamo però questo è stato un momento una illusione un'illusione cristian cristallizzata da un pensatore giapponese francis fukuyama che nel 1990 quindi quando ormai l'unione sovietica era al collasso finale e si chiudeva l'esperienza sovietica america si ammainava la bandiera rossa era finita un'epoca francis fukuyama scrisse che a quel punto e la vittoria del sistema la cui incarnazione più perfetta o meno imperfetta se preferisce sono gli stati uniti d'america questo sistema aveva vinto su tutto il mondo si era arrivati alla fine della storia ormai non ci sarebbero più stati mutamenti apprezzabili ci si sarebbe ci saremmo limitati a registrare e amministrare l'esistente ormai il potere geomonico era legato strettamente definitivamente alle classi dirigenti di tutto il mondo che forniscono le elite delle obbis mondialistiche ma che certamente hanno una una guida una sorta di faro di cabina di di regia in quel mondo che noi semplicizzando chiamiamo ordinariamente wall street che poi è un modo di dire per dire il culmine praticamente del sistema liberal liberistico è stato veramente così evidentemente no francis fukuyama aveva fatto appena in tempo a godersi i frutti lauti della sua dei suoi diritti d'autore sul suo best seller che il mondo cambiava immediatamente cambiava la nato per esempio la quale dà alleanza più o meno sedicente difensiva in realtà la nato è qualcosa di molto più complesso e che doveva sorvegliare l'atlantico settenzionale e il patto atlantico riassunto dalla sigla nato appunto vuol dire questo sistema di difesa dell'atlantico settenzionale che ha poi inglobato fortemente il mediterraneo e che si è riciclato perché nel frattempo negli anni 90 si era si era osservato un primo contraccolpo di questo nuovo sistema di questo nuovo ordine globale che si fa così new world order e il sistema globale di di ordine globale ha trovato un primo ostacolo in un grande e inatteso fenomeno che è stato complesso e articolato a sua volta che è stato il cosiddetto fondamentalismo musulmano con il corrispettivo politico militare del terrorismo e contro il terrorismo si sono fatte addirittura delle guerre e tutto questo ha giustificato quel gruppo di guerre nate all'inizio degli anni 90 dai balcani fino all'iraq dopo la grande crisi afghana e che a sua volta impresso un'altra svolta la lotta contro la lotta contro il terrore è diventata una categoria universale a cui si sono ispirati senza dubbio la l'onu la l'organizzazione delle nazioni unite e soprattutto senza dubbio la nato però tutto questo non ha tanto risolto quanto complicato certi problemi dal mondo destrutturato dell'universo islamico sono nate varie schegge qualificanti importanti dall'esperienza della della turchia di erdogan che non è legata alla grande rivoluzione chemalista occidentalista e filo europeista dell'inizio del novecento ma che costituisce in qualche modo un ponte fra la modernità occidentale e un islam sentito in termini che risentono a loro volta molto anche dell'universo fondamentalista quindi una un'esperienza quella di erdogan che è assolutamente originale come sono originali alcune esperienze che sono sopravvissute al fallimento lasciamo perdere perché fallito in che modo fallito del cosiddetto socialismo arabo la siria di bashar al assad in un modo che qualche anno fa o qualche decennio fa poteva sembrare estremamente improbabile e comunque sopplicando rabberciandosi eccetera è comunque riuscita a sopravvivere si è collegata a un altro fenomeno straordinario che è la rivoluzione fondamentalista sciita che si è radicata in un grande paese come l'Iran mentre un altro grande paese l'india ha riscoperto le sue origini induiste ha avviato un equilibrio che sembra quasi fondato sulla lotta di religione contro l'islam per certi versi perfino contro anche contro il cristianesimo ha abbandonato e questo non ce l'aspettavamo un personaggio del mondo indiano ma anche europeo ma anche mondiale che era il Mahatma Gandhi divenuto uno degli eroi dell'umanità degli eroi meno discussi o se preferisce più indiscussi dell'umanità ebbene il Mahatma Gandhi l'insegnamento del Mahatma Gandhi la figura del Mahatma Gandhi oggi risulta rinnegata dall'attuale governo nazionalista indiano soltanto nel Kerala quindi nel sud in questo paese stranamente restato quasi paleocomunista che fa parte della federazione indiana che è a sud ovest del subcontinente indiano resta un culto di Gandhi e le statue di Gandhi non sono state rimosse ma nel resto dell'India è successo questo una rivoluzione di cui non ci siamo quasi accorti così come noi non ci siamo quasi accorti che dopo la fine dell'Unione Sovietica quello che era stato in fondo lo stato guida dell'Unione Sovietica tanto è vero che familiarmente in Italia quando si parlava dell'Unione Europea si diceva la Russia come se fosse ancora l'antica potenza dello Tsar ma anche l'antica potenza dello Tsar non era soltanto Russia era un impero multinazionale plurinazionale, multiculturale come lo era l'impero hasburgico in Europa erano quegli imperi contro i quali si è fatta la prima guerra mondiale per cancellare i quali si è fatta la prima guerra mondiale con risultati molto discutibili perché sì, gli imperi multinazionali o plurinazionali sono scomparsi è scomparsa l'Austria-Ungheria è scomparsa la Russia azzarista ma a suo punto sono arrivate i nazionalismi aggressivi i nazionalismi totalitari i nazionalismi razzisti e siamo caduti nella seconda guerra mondiale che per infiniti versi è una prosecuzione della prima quindi noi possiamo parlare di un 900 che è stato caratterizzato da una guerra dei 30 anni dal 1914 quando l'attentato di Sarajevo la mobilizzazione della Germania eccetera fino al 1945 domanda è corretto chiudere questo periodo in questa parentesi e parlare di una guerra dei 30 anni come quella che accadde nell'Europa del 600 fino a un certo punto perché noi ci accorgiamo oggi che in realtà gli strascichi degli errori commessi e degli errori commessi dai vincitori in sede dei trattati di pace alla fine della seconda guerra mondiale non hanno portato concordia non hanno portato equilibrio e se un trattato di pace professore anche la prima guerra mondiale poi ha generato la prima senza dubbio ha generato la seconda e su questo non c'è quasi soluzione di continuità dopo vent'anni si stava già picchiando quindi fra la prima e la seconda guerra mondiale c'è solo una fregua ci credono alcuni francesi alcuni tedeschi alcuni inglesi la Russia si tira fuori perché ha la sua rivoluzione in un solo paese per volontà di quello che era diventato il demiurgo del sistema sovietico di Stalin ma in realtà dopo il 1945 ci siamo accorti come le cose non erano state risolte per un errore di visuale molto grave macroscopico che era il considerare l'Europa l'Occidente ma si era ancora restì a pensare all'egemonia degli Stati Uniti l'egemonia c'era gli Stati Uniti erano diventati ormai il primo paese del mondo ma noi europei continuavamo a millantare un primato un primato culturale un primato sociale e via discorrendo e questo sistema faceva sì che noi vedessimo le cose in una prospettiva eurocentrica se avessimo abbandonato questa tragica maschera eurocentrica nel vedere il mondo ci saremmo accorti che il mondo stava camminando senza l'Europa e magari contro l'Europa in altre in tutt'altre direzioni la liberazione parziale tragica malintesa tutto quello che si vuole la liberazione dei paesi ex coloniali dei paesi del terzo del quarto mondo e le ambiguità con le quali noi occidentali abbiamo collaborato a queste liberazioni uscendo magari dalla fase delle pretese del governo politico delle ex colonie ma continuando a esercitare un'egemonia sociale un'egemonia culturale un'egemonia commerciale un'egemonia tecnologica al punto tale che in realtà i paesi per esempio dell'Africa dell'Africa l'Africa nera non tanto dell'Africa settentrionale araba gli altri paesi quelli compresi tra la fascia mediterranea araba e la grande la grande esperienza sudafricana che a un certo punto è stata illuminata da questo fenomeno straordinario del leader Mandela professore professore o gli altri paesi sono rimasti una domanda diciamo lei ha aperto un tema molto importante ecco diciamo la mia premessa iniziale è stata proprio questa differenza che c'è tra la Davos occidentale il World Economic Forum e il Forum di San Pietroburgo che ha visto oltre centinaia di paesi praticamente di tutto il mondo e molta Africa praticamente applaudi quindi diciamo essere presente ed essere concorde praticamente a questo progetto di mondo diverso mentre a Davos abbiamo grandi imprenditori grandi lobby e via qui abbiamo proprio dei paesi insomma quindi Davos è il risultato della neocolonizzazione è il risultato del fatto che in realtà i paesi dell'Asia e dell'Africa e dell'America Latina non sono stati affatto liberati dall'egemonia occidentale perché l'egemonia occidentale si è ritirata dal punto di vista delle apparenze delle cornici politico-istituzionali militari poliziesche fino a un certo punto ma l'egemonia è rimasta dal punto di vista sociale e economico perché non riusciamo a risolvere la crisi dei migranti e perché tutta la nostra classe politica a destra come a sinistra a un certo punto compie quest'atto di scandalosa ipocrisia continuando a discutere se i migranti vadano accettati se si debbano fermare sulle spiagge di partenza e fingendo di non sapere e lo sanno benissimo perché i nostri sistemi socio-economici sono legati a quelli dell'Africa alle sue materie prime al plusvalore delle sue materie prime e della sua forza lavoro a basso costo loro fingono ai nostri governanti di non sapere che in realtà il continente africano avrebbe bisogno di profonde riforme strutturali per attuare le quali bisognerebbe cominciare a dare sonori colpi di piccone ai privilegi delle lobby occidentali soprattutto a quelli francesi e inglesi soprattutto a quelli francesi perché basta vedere la politica francese nell'occidente africano con un euro africano strettamente legato a una cosa che non c'è più da noi nel continente ma lì c'è una sorta di sopravvivenza della moneta fantasma del franco francese perché i sistemi egemonici dell'occidente africano non sono legati tanto al sistema economico monetario europeo quanto a un sistema economico monetario europeo e occidentale che passa però attraverso Parigi e se noi riuscissimo semplicemente a stabilire una più equa ripartizione della ricchezza di quello che è il continente che se guardiamo al suo suolo e al suo sottosuolo è il continente più ricco del mondo e allora riusciremmo anche a impostare va di bene ho detto a impostare non a risolvere per quello chissà quanto ci vorrà ma a impostare almeno il problema del fatto che siamo davanti a un ossimoro a un assurdo a una contraddizione gigantesca grande quanto una montagna il fatto cioè che i paesi che sono più ricchi dal punto di vista del suolo e del sottosuolo e secondo la carta delle Nazioni Unite la ricchezza del suolo e del sottosuolo appartiene al genere umano dislocato nelle varie regioni del mondo e quindi l'Africa appartiene agli africani ma questo non è vero perché il subcontinente africano più povero in termini di esseri umani del mondo è lo stesso che detiene le maggiori ricchezze del mondo quindi paesi ricchissimi che hanno sulla sua faccia sul suo piano di calpestio sono abitati da popoli poverissimi questo è una contraddizione in termini ma professore devo dire che c'è in Africa c'è una grandissima attività proprio di resistenza nei confronti proprio della Francia e la Francia insomma è abbastanza molto aggressiva sotto questo punto di vista la Francia difende più più apertamente quello che ha mantenuto con maggiore disinvoltura però non basta non c'è soltanto la Francia c'è l'Inghilterra c'è l'Olanda fino a poco tempo fa c'era il Portogallo c'è un sistema che fra l'altro adesso ha trovato il modo di collegarsi al suo interno e di offrire una specie di difesa contro un altro pericolo reale o immaginario che sia e in gran parte reale cioè l'intrusione l'arrivo dei capitali cinesi e del personale tecnologico cinese e quindi questo fenomeno di una sorta di guerra neocoloniale non combattuta per il momento combattuta per procura perché noi siamo molto bravi a far combattere per procura i popoli ogni riferimento all'Ucraina è puramente casuale le guerre ci sono in Africa ma gli europei figurano o da paceri o da estranei laddove invece la ragione del contendere è proprio il fatto che si vuole mantenere questo legame che non è un legame paritario diciamo un po' gatto pardesco insomma ricorda un po' il gatto pardo noi continuiamo a sfruttare l'Africa la sfruttiamo in un modo diverso di quanto non lo sfruttassimo un secolo fa e abbiamo creato una classe dirigente funzionale ai nostri sistemi e questo durerà a lungo forse no perché ci saranno le forze rivoluzionarie ma queste forze rivoluzionarie potrebbero essere sostenute dalla Cina la Cina ha reale interesse a rovesciare questo sistema o vuole semplicemente impadronirsi nella sua volta bisogna vedere siamo cinque minuti dalla fine professore ci tengo veramente arrivare in maniera rapida praticamente a questo le dichiarazioni di Putin quando dice l'Occidente è degradato l'Occidente praticamente ha perso di vista quelli che sono i valori fondamentali la famiglia e tante altre cose insomma punta molto il suo discorso su questo tema ovviamente e per concludere poi io le voglio chiedere dopo la risposta che mi darà secondo lei la storia chi la scriverà? siccome la storia solitamente la scrive chi vince diciamo mi aspetto da lei una previsione prego professore la storia la scrivono i vari vincitori e la ruota delle vittorie è una ruota che gira di continuo le faccio un esempio molto banale chiunque vada oggi nel Suttirolo cioè quello che noi chiamiamo Alto Adige come tutti sanno è una regione meridionale dell'Austria anche se politicamente è una regione settentrionale dell'Italia entra negli alberghi e si trova il ritratto dell'imperatore Franz Josef c'è un reale affettuoso una reale affettuosa nostalgia per un mondo tradizionale per un mondo ben amministrato per un mondo onesto per un mondo che si muoveva secondo parametri ben chiari ben precisi è soltanto un fatto emozionale è una sorta di bizzarria culturale ma senza dubbio sì in gran parte però nello stesso tempo induce a porzione una domanda storica la prima guerra mondiale l'hanno vinta la Francia e l'Inghilterra il grande demiurgo della prima guerra mondiale è stato il presidente il presidente francese oppure il primo ministro inglese ma chi se ne ricorda chi si ricorda di Lloyd George per esempio mentre dello sconfitto di Francesco Giuseppe ci si ricorda ancora ci si fanno dei film ci si fanno delle saghe paesane è un è un universo è un microcosmo non è che questo fenomeno sia sviluppato in tutto il mondo ma in tutto il mondo ci sono fenomeni fenomeni di questo genere recentemente un 85enne che si ricordava della sua adolescenza e della sua giovinezza e questo era un adolescente si chiama si chiama Bergoglio Papa Francesco ha rivendicato le sue vecchie radici peroniste ma chi se ne ricordava di Peron da noi in occidente noi però nella migliore delle ipotesi ne possono parlare come di una specie di semi dittatore perché poi l'Argentina è sempre stato un paese pluripartitico eccetera una specie di demiurgo vagamente fascista basta tutto questo evidentemente no Bergoglio se lo ricorda in un'altra maniera siamo arrivati allora quali sono i parametri arriviamo proprio alla chiusura ecco la storia chi la scriverà in un minuto la storia la studieranno la scriveranno principalmente quelli che in quel momento riterranno di essere vincitori oggi noi abbiamo avuto un fenomeno che è durato una centina d'anni dagli anni 90 del secolo scorso che è stato il tentativo da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati fra cui ci siano anche gli italiani di far avanzare il sistema del pensiero unico post liberale fino alla piena Eurasia è evidente che Obama e Biden sognavano e Biden lo sogna ancora un universo che sta fra la Polonia e la Cina costellato di piccoli paesi arancioni dove vige la legge del mercato dove c'è una democrazia all'occidentale più o meno avanzata più o meno formale lasciamo perdere e dove dal punto di vista russo si può dire che imperano la corruzione tutti i valori negativi di quelli che nel mondo russo si chiamano l'occidente però tutto questo è un fenomeno che è stato ed è ancora contrastato allora organizzando la Nato come macchina socio-militare che doveva portare avanti questo piano era evidente che prima o poi sarebbe nato qualche cos'altro nel 46 a contrastare la Nato che non dimentichiamoci è la primigenia aver fatto una cosa del genere arrivò il fatto di Varsavia oggi noi siamo a una nuova Nato allargata nella quale siamo anche noi e se invece ci sguazziamo almeno l'attuale presidente del Consiglio sembra trovare c'è si benissimo e dall'altra parte c'è il BRIC il Brasile la Russia l'India a cui la Cina a cui si accoderanno purtroppo piuttosto purtroppo stavo per dire purtroppo ma perché no al limite si accoderanno altri paesi che si trovano in una situazione diversa queste potranno essere le basi della terza guerra mondiale potrebbero esserle ovviamente si trova parete vicini la premessa l'ho fatta prima chiaramente se parlavamo di 2040 speriamo che insomma ci si arrivi senza nessun fungo grande fungo del cielo ovviamente ringrazio il professor Franco Cardini che rincontreremo sicuramente dal direttore Umberto Rey alla prossima puntata grazie 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 a tutti.